Chiusura positiva per Piazza Affari, pur con una riduzione dei guadagni sui quali aveva viaggiato per l'intera sessione. Il Fuzzimib registra un progresso dello 0,34%, l'all share dello 0,13%. A trenare il listino sono soprattutto i bancari, mentre in calo il settore del lusso, con Toz che incassa a meno 5,5% e Ferragamo a meno 5%. Il leggero aumento lo spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi si è attestato a 200 punti con un rendimento del 3,91%. In Europa negative le principali piazze, Parigi chiude gli scambi cedendo lo 0,84%, Londra perde lo 0,45%, Francoforte lascia sul terreno lo 0,8%. Lieve calo anche per Madrid che termina a meno 0,19%. Tornando a Piazza Affari, nel listino tra i bancari BPM sale del 3,96% e UBI del 3,9%. Positiva la giornata di risparmio gestito, con Mediolanum a più 2,6% e Banca Generali a più 4,9%. Il rosso invece ST a meno 2% e Luxottica a meno 1,8%, male anche Pirelli a meno 0,6% e Enel a meno 0,7%.